Qualche mese fa, durante il Minecraft Live, la Mojang aveva annunciato la creazione di un nuovo programma gratuito di modellazione 3D Quindi essenzialmente per creare dei nuovi mostri, dei nuovi blocchi, dei nuovi personaggi da aggiungere all'interno di Minecraft tramite mod, pacchetti, plugin O semplicemente per ritexturizzare degli oggetti o dei mostri già esistenti E questa è stata la mia reazione quando ho sentito di questa notizia Guarda! Sono senza parole, lo voglio usare anch'io E quindi ha creato il suo pacchetto, lo aggiungi nel mondo Ma ragazzi, non avete capito? Io cercherò di impararla questa cosa perché ci voglio fare un video Ora, ovviamente io non sono un esperto, ho provato a utilizzare questo programma in questi tre mesi per imparare qualcosina, se non altro almeno le basi E quindi eccomi qua a fare questo video Mi raccomando ragazzi, supportatelo lasciando un super mi piace perché so che questi contenuti vi piacciono E adesso vediamo cosa riesco a creare Eccoci qua, adesso siamo all'interno del programma, ovvero Blockbench Iniziamo da qualcosa di molto semplice Loro nel tutorial hanno fatto vedere come ritexturizzare un mostro già esistente E hanno fatto un orso grizzly, quindi noi facciamo un orso Il nome mettiamo kendal, due punti, orso nero, un orso nero, mi piace Ovviamente dobbiamo selezionare un orso già esistente perché avrà le stesse identiche caratteristiche Quindi mettiamo gli stessi movimenti dell'orso Questo sarà l'uovo con cui lo spawneremo? No, ci servirà un uovo scuro, un uovo nero Creiamo un pacchetto grafico apposito, quindi orso nero Adesso avremo nel programma il nostro orso polare Dobbiamo semplicemente ritexturizzarlo, in questo caso Poi vi farò vedere invece come creare un mostro da zero Quindi una cosa totalmente inventata Prendiamo il secchiello e iniziamo a fare quindi Le zone diciamo più chiare sono queste Quindi le facciamo grigio chiaro E le zone più scure ovviamente le facciamo sul nero Un po' troppo scuro questo, quindi un po' di meno sicuramente Questo qua si può dezoommare, sì, si può dezoommare, fantastico Torniamo sul grigino e facciamo anche così Questo semplicemente ragazzi per sfumare bene la texture Io non sono bravo, non sono un esperto a fare queste cose Quindi non so neanche se sta venendo bene Però comunque abbiamo qua il nostro orso nero C'è un problema però, c'è il muso verde Il muso noi lo vogliamo fare marroncino, giusto? Quindi scegliamo il marroncino scuro, circa questo Ok, e abbiamo cambiato il suo muso Ma voglio modificare gli occhi Lo voglio fare cattivo E quindi i suoi occhi li faremo rossi Uno e due È un po' troppo grigio, io lo voglio ancora più nero, più scuro Ecco, adesso sì che fa paura Bene, non ci resterà che salvarlo E adesso potremo giocare con la nostra nuova creazione su Minecraft Pacchetto attivo orso nero State a guardare Adesso se scrivo orso avrò effettivamente l'uovo dell'orso nero Ovvero quello che ho creato nel mio programma 3D Eccolo qua Solo che mi sono dimenticato di texturizzare questo pixel che è restato bianco Però effettivamente quello che abbiamo creato lo abbiamo proprio di fronte a noi Benissimo Ma adesso passiamo a qualcosa di più difficile Creare un mostro da zero Quindi questa volta non utilizzeremo più i modelli di Minecraft Bedrock Edition Come chiamiamo il nostro mostro? Io voglio fare un golem, lo chiamiamo... Questa è la parte più difficile, non riesco a trovare il nome Puzzino, come il mio criceto Questo da ora in poi sarà il nostro piano di lavoro Adesso ovviamente dobbiamo creare il modello Innanzitutto creiamo le hitbox Quindi questa qua lo chiamiamo hitbox Adesso li possiamo anche nascondere Dopodiché creiamo il primo blocco Che sarà questo qua Ovvero la nostra testa È importante creare tanti gruppi Quindi facciamo il gruppo chiamato mostro In cui al suo interno ci sarà la testa E poi dentro il gruppo mostro facciamo il gruppo testa E ci mettiamo la testa Ok, chiaramente questa testa è troppo piccola Quindi dobbiamo fare una bella testa gigante Visto che si parla di un golem Creiamo quindi un blocco decisamente più grande Dobbiamo selezionare il pivot giusto Quindi lo mettiamo al centro Così In modo tale che quando vorremmo ruotare questa testa La possiamo ruotare direttamente da qua Visto? Senza alcun problema Adesso creiamo una bocca Quindi nuovo gruppo Lo chiamiamo bocca Nuovo blocco E lo facciamo della stessa identica larghezza della testa Ovviamente Così Un pochettino più sottile Perché si tratta appunto di una bocca Fantastico E adesso rimodifichiamo il pivot di questo blocco Che sarà qua Va benissimo Come vedete ragazzi Adesso abbiamo una bocca Quindi il nostro mostro Il nostro golem gigante Potrà effettivamente parlare Ora creiamo il resto del corpo Per farlo facciamo un altro gruppo Che metteremo stavolta qua su in cima E facciamo Torso Quindi creiamo un blocco Che sarà il nostro petto Cioè non il nostro Il petto del nostro mostro E ovviamente Lo dovremmo fare Piuttosto grande Perché si tratta appunto Di un golem Di un mostro gigante Ok Continuate a seguirmi ragazzi Sto cercando di renderlo Il più facile possibile Questo sarà il petto Quindi la parte superiore Del nostro golem Adesso ovviamente Facciamo anche la parte inferiore Quindi lo facciamo Un pochettino Più lungo E decisamente Meno grosso Meno spesso Quindi all'incirca così È importante assicurarsi Che tutto quanto sia centrato Altrimenti poi Non cammina Adesso creiamo Quello che sarà Il bacino Del nostro golem Il nostro mostro Sta prendendo forma Ma non ancora Copia e incolla Creiamo lo stesso Identico blocco Però questa volta Lo facciamo decisamente Più piccolino Quindi esattamente così Perché faremo le gambe Quindi avrà delle gambe Al centro E quindi creiamo Un altro gruppo Chiamato Gambe Ci mettiamo questo E lo mettiamo Qua E ora facciamo i piedi Un po' più schiacciati Direi Un po' più lunghi E li mettiamo qua Adesso semplicemente Prendiamo la cartella Di gamba sinistra La copia e incolliamo E abbiamo anche Gamba destra Quindi rinominiamola In destra La prendiamo E la spostiamo Molto semplicemente Così Quindi ora Non ci resta che fare Le braccia Iniziando chiaramente Dalle spalle Mettiamo tutto in ordine Quindi testa Torso Gamba sinistra Gamba destra E poi le hitbox Testa Torso Su torso Ovviamente dovremmo fare Un'altra cartella E creiamo Chiamata Spalla Destra E quindi abbiamo Un nuovo blocco Io direi che la spalla Essendo che lui è un golem Dovrà essere Piuttosto Possente No? Quindi facciamo una bella Spalla gigante Adesso Copia e incolla Ovviamente Abbiamo anche Spalla destra Quindi adesso Abbiamo anche la spalla Destra E la mettiamo Qua di lato Creiamo un'altra cartella E la chiamiamo Braccio Destro E adesso Dobbiamo fare quindi Il nostro braccio Creiamo un altro blocco E facciamo adesso Anche Quello che poi sarà La mano Ecco qua quindi Il nostro golem Ma chiaramente Non ho finito Perché al momento È soltanto una Cozzaglia di blocchi Uniti tutto l'uno Con l'altro Quindi ora Dobbiamo fare i dettagli Per esempio Qua nelle giunture Nei ginocchi Prendiamo Un altro blocco Andiamo dove c'è Ginocchio Gamba sinistra Con questo mini blocchetto Adesso sapete cosa facciamo ragazzi Creiamo Un vero ginocchio Esattamente così Copia e incolla Lo mettiamo anche Nella gamba Nella gamba destra E lo spostiamo qua Ed ecco qua Le ginocchia del nostro golem Ecco come si presenta Il nostro caro amico golem Dopo un pochettino Di ritocchi Quindi ho semplicemente Aggiunto Dei blocchi extra All'interno Di quelli che avevo già creato Quindi all'interno Della spalla All'interno delle ginocchia Giusto per dargli Quell'area appunto Di tridimensionalità E soprattutto Quell'area Di golem Quindi cosa potrei fare adesso Cosa potrei aggiungere Di extra Potremmo fare Una sottocartella Chiamata per esempio Spada E creare Dietro la sua schiena Una spada gigante Per esempio Ci starebbe Secondo me Non sarebbe male Quindi Facciamo che Dietro la schiena Il nostro golem Avrà una spada Copia e incolla Adesso Rimpiccioliamo Il tutto Lo abbassiamo Perché questa spada Dovrà anche avere Una punta No? E Esattamente Blocco per blocco Andremo a creare Anche la punta Che arriverà Fino a qua giù La rimpiccioliamo Un po' Et voilà Spada Creata Ovviamente adesso Dobbiamo fare anche L'impugnatura Quindi il manico Della spada Non è troppo alta Vero? No Direi che è proprio Perfetta Copia e incolla Tiriamo su questo Adesso è centrato Ora è centrato Ultimo passaggio Copia e incolla Facciamo la parte Adesso del manico Abbiamo quindi creato Il nostro Mostro Torniamo alla parte Di prima Quella dell'hitbox Che ci servirà Per capire Come attaccare Questo mostro Quindi quando lo metteremo In gioco Dovrà essere possibile Attaccarlo Dal braccio Fino alla testa Giusto? Quindi noi adesso Allarghiamo Questo blocco qua Questo è tutto lo spazio Che avremo Per colpirlo Quindi se colpiamo All'interno di questo spazio Riusciremo a fargli Del danno Quindi fino a qua E poi D'altezza Dovrà essere Fino alla spada Texture Trasparente Perfetto Abbiamo creato Il golem Chiaramente Non è finito Perché ora Possiamo Texturizzarlo Allora Io non sono bravo Con le texture Quindi Non vi aspettate Nulla di Troppo eccezionale Facciamo un 128 Per 128 pixel Poi template Box Ok E quindi adesso Abbiamo delle luci E una texture Sul nostro golem E adesso Non dovremmo far altro Che iniziare a Spennellare Tutte quante le sue Facciate Fino a riempirlo Tutto quanto Di colore Quindi in questo modo Lo coloreremo Al 100% La spada La vogliamo fare Tipo di diamante Allora prendiamo Il colore del diamante E facciamo una bella Spada di diamante Esattamente In questo modo Beh avete capito Questo È il nostro Mostro La nostra Nuova creazione Io purtroppo Non sono ancora Capace di inserirlo All'interno di minecraft Perché dovrei creare Una mod Apposita Per questo modello Inserirlo dentro La mod E dopodiché Animarlo Quindi dovremmo Proprio creare La sua animazione Di lui che cammina Lui che mi attacca E così via Ma se questo video Dovesse superare Che ne so I 100.000 mi piace Continuerò a studiare Per imparare E per migliorare La creazione Di questi fantastici Mostriciattoli Su Blockbench Che dire Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un super mi piace Ci ho messo veramente Tanto tempo Anche perché ho dovuto Letteralmente imparare Un nuovo programma E delle nuove cose Che non conoscevo Dal vostro Kendall è tutto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao